Buonasera in diretta al Teatro Sette di Torino, Profondo Rosso, una trasmissione che va in onda tutte le settimane al venerdì dalle ore 20.30 alle 23, visibile su rete 7 canale 12 del digitale terrestre su Sky canale 825. Questa sera parliamo del voto delle regionali e delle europee del 25 di maggio, abbiamo incontrato il candidato presidente della regione Gilberto Picchetto di Forza Italia nell'ora di faccia faccia, adesso abbiamo altri politici piemontesi, vedremo un po' di approfondire l'attualità con anche un po' un occhio rivolto alle elezioni. Vediamo con chi faremo questi ragionamenti, Monica Cerutti, consigliere regionale di SEL, Giuseppe Catizzone, sindaco di Michelino Partito Democratico, Antonio Marco Dacri, assessore provincia di Torino al bilancio, relazioni internazionali, cultura e patrimonio, Daniela Ruffino, sindaco di Giaveno Forza Italia. Se volete fare una domanda ai nostri ospiti lo potete fare mandandoci un sms al numero 348 80 40 254 durante la trasmissione e verrà rimesso in sovraimpressione per ricordarvi questa possibilità. Come tutti i venerdì ringrazio Cronaca qui perché sul numero del venerdì ci anticipa sempre la nostra trasmissione scrivendo sia di cosa parleremo la sera sia chi sono gli ospiti. Non è l'unico motivo di comprare Cronaca qui che è un ottimo giornale però se lo comprate anche il venerdì saprete che cosa vi aspetta poi su Rete7 a Profondo Rosso. Allora fuoco alle polveri. La notizia diciamo più importante secondo me della settimana e quella riportata un po' a tutti i giornali abbiamo scelto la stampa Cronaca di Torino a pagina 47. Addio la stampa di oggi a pagina 47. Addio provincia e ora che succede? La Camera approva la riforma del Rio, a gennaio nascerà la nuova città metropolitana guidata da Piero Fassino. Saitta rifiuta il ruolo di commissario, si lavora una clausola per tutelare la rappresentatività di tutti i comuni. Allora io direi prima di parlare di regione, Europa eccetera di capire anche perché qui abbiamo l'assessore provinciale ed Acre insomma che forse è il più competente per spiegarci esattamente che cosa è successo e soprattutto che cosa ci aspetta. Ma il cosa ci aspetta è davvero la domanda più complicata. Io credo che la riforma istituzionale del Paese sia un elemento che si è sempre detto con un aspetto centrale che è quello della riduzione dei costi. Noi abbiamo avuto negli anni una riflessione sui livelli provinciali e quindi si è discusso per anni della necessità di ridurre i costi della pubblica amministrazione italiana la riforma delle province nell'intenzione del legislatore doveva essere l'occasione per mettere mano a tutti i livelli provinciali lo dico parlando anche delle prefetture, delle questure, delle motorizzazioni. Ogni provincia porta con sé camere di commercio, porta con sé prefetture, porta con sé tutti i ministeri che a livello decentrato sono organizzati sul territorio. In questo caso questa riforma invece, differentemente da quell'intenzione, si occupa esclusivamente della sistema elettorale al momento. Da ricordi di diritto dell'università i docenti dicevano che bisognava prima partire dalle funzioni e poi parlare delle istituzioni. Mi pare che questa volta si sia partiti dalle istituzioni. La confusione rispetto ad alcuni elementi è alta. Mi pare che sulle funzioni della città metropolitana, un passaggio in Parlamento invece sia servito per chiarire le funzioni principali dal sistema infrastrutturale, in qualche modo anche all'edilizia scolastica e al sistema di area vasta, resta la grande domanda del livello dei costi. Io devo dire che dall'esperienza di questi anni da assessore al bilancio mi rendo conto che probabilmente questa riforma sul tema dei costi incide esclusivamente sulle elezioni. Ovviamente il messaggio che la politica debba fare i suoi sacrifici è un elemento che in questo periodo è importante ed è stato lanciato, va detto che però non si risolve con quello il livello della spesa italiana. È un problema grosso perché dal mio punto di vista, ma richiamo anche la Corte dei Conti, risparmi non ci sono. Questa è la paura dei prossimi mesi. Bene, poi torneremo perché voglio parlare anche di area metropolitana. Abbiamo questa sera anche la fortuna di avere due sindaci della provincia di Torino che diventerà area metropolitana, quindi non solo l'abolizione della provincia, ma anche la trasformazione in area metropolitana. Daniela Ruffino, sindaco di Giaveno, tu sei anche consigliera provinciale, quindi interessata in doppio modo. Come la vedi tu questa cosa? Ma la vedo malissimo. La vedo malissimo perché è una situazione che è partita davvero in malo modo. Ricordo molto bene il giorno in cui Sait ha convocato tutti i sindaci, credo un anno e mezzo fa in Corso Inghilterra, per dirci che la città metropolitana era cosa buona e giusta e per perorare questa causa. C'è stata una virata netta da parte del Presidente che ha portato tantissima confusione negli amministratori. Ora anche Sait ha scoperto che la città metropolitana non è cosa buona e giusta per i comuni. Si tratta di cercare di capire che tipo di dialogo, se è possibile farlo ancora, si può instaurare con i sindaci e certamente per quello che mi riguarda, nel momento in cui verremo convocati, io non sarò più sindaco perché sono al secondo mandato e termino, dovremo essere in grado di almeno dire un no fermo. Credo che oggi si possa fare molto poco, credo che l'unica piccola opportunità dell'area metropolitana, della città metropolitana possa essere legata ai comuni che vengono definiti quelli della ciambella e sono i grandi comuni che gravitano intorno alla città di Torino, ma come è oramai abitudine dire da parte di qualche sindaco di piccoli comuni che c'è zecca mai Sestrier con Torino, sono due realtà che sono agli antipodi. Io credo che la politica debba pensare a questo, sono certa che andando avanti nella trasmissione e sviscerando questo tema ci renderemo conto di quanto andremo a perdere, di cosa non riusciremo più ad avere nei comuni tutta una serie di servizi che io reputo importantissimi, un momento difficile per i comuni legato ai tanti tagli. Mi occupo di scuola da tantissimo tempo, c'è il tema dell'edilizia scolastica, la provincia ha dei soldi. Ho sempre chiesto e lo sa molto bene Marco D'Acri di andare a sforare il patto di stabilità in provincia per riuscire a fare degli investimenti in comune. Un ente quando è in dismissione, quando è in chiusura, almeno deve spendere i propri soldi per i comuni. Questa è una piccolissima parte, un 2% di tutto quello che attiene alla sfera della sciagurata città metropolitana di Torino. Però al di là, poi dopo passiamo anche al discorso del fatto di carenza di democrazia nel senso che non vengono elette i cittadini, però noi parliamo dopo. Io quello che sinceramente non ho capito. Ma queste competenze alla fine a chi passano? Le competenze della provincia? Sarebbe divertentissimo capirlo perché mi vedo difficile che di queste competenze se ne possa occupare la regione che ha un certo tipo di impostazione. Non si parla di unioni dei comuni che si stanno formando, stanno nascendo e sono un obbligo di legge, non si parla di comuni. Do per certo, e questo è un'interpretazione molto popolare per far capire a chi ci sta ascoltando che i palazzi della provincia continueranno a essere pieni di dipendenti. Non si sa da chi verranno governati, se già il presidente Said ha detto che si dimetterà, ci sarà un commissario. Vorrei capire come questo commissario riuscirà a gestire una parte di competenze che è immensa. So per certo che ai comuni mancheranno servizi e investimenti, vuol dire che i cittadini avranno meno servizi, meno possibilità. Il sunto di tutta questa operazione è questo. Poi certamente potremmo parlare della grande regia e della grande operazione politica di fare in modo che ogni città metropolitana sia governata dalla sinistra e in questo caso ci si prenderanno, ci si prenderà delle precise responsabilità. Devo solo fare un chiarimento se possibile, due cose. La prima al volo, quello che diceva il sindaco Ruffino di Said, in realtà Said un anno e mezzo fa parlava di una città metropolitana che era inserita nella riforma Monti che prevedeva l'accorpamento delle province, quindi la riduzione in Piemonte da 8 a 4 province e insieme la riduzione di prefetture e uffici che dicevo prima. Insieme a questo l'elemento del chi governerà e cosa succederà, sicuramente adesso la legge è quello che prevede che per la città metropolitana di Torino il vertice apicale spetterà al comune di Torino, quindi il sindaco della città diventerà il presidente della città metropolitana. Benissimo, è un problema che succede che non c'è la città metropolitana. E lì è un problema, Novara dove non c'è, le province restano, questa è la notizia secondo me del giorno. Non ci sono più i politici. Diciamo che la corsa a questa norma prevede che quindi non si voterà a maggio, però sulle funzioni non chiarisce molto bene, dice che il sindaco di Torino si occupa della città metropolitana di Torino, mentre l'assemblea dei sindaci a Novara eleggerà il suo presidente che dovrà essere un sindaco. Per il momento è questa la riforma. Ho capito. Allora, sindaco Catizzone, tu invece fai partire la ciambella, no? Perché Michelino è proprio appiccicato. E tu come la vedi invece questa riforma? Mi pare che, a mio parere, occorra inquadrare la riforma su un disegno un po' più generale, perché se no non si capisce, no? Io non partirei dalle poltrone dei sindaci, partirei da quello che succede negli altri paesi europei o addirittura internazionali. Oggi cosa succede? Che l'economia è un'economia molto competitiva, perché se no partiamo da qua non capiamo perché noi vogliamo cambiare il sistema, no? E su che cosa arriva, su che cosa si basa la competizione? Cioè, quali sono gli attori principali di questa competizione globale? Sono le città. Cioè, se voi ci pensate, San Francisco non è solo la città di San Francisco. Ci sono una serie di funzioni molto grosse, che sono quelle cittadine, quindi quelle politiche e così via. Poi ci sono gli hub della conoscenza, cosiddetti, gli hub economici, gli hub culturali. Quindi ci sono tutta una serie di funzioni che per la loro struttura devono avere una situazione che è diversa dai piccoli comuni. Oggi in Italia cosa succede? Succede che noi abbiamo 8.000 tassa comuni, abbiamo oltre 8.000 comuni, quindi siamo molto frazionati. Essendo così frazionati, con costi della politica straordinariamente alti, perché poi è vero che il bilancio dello Stato non si sa neanche i costi della politica, ma è anche vero che i costi della politica in questo paese sono abnormi, politica e privilegi. Che cosa succede? Che questa frammentazione fa perdere competitività al sistema paese. Allora, se noi partiamo anche da questo, cioè perché i sindaci ormai sono i sindaci delle grandi città, pensate a che cos'è Berlino, pensate a cos'è Parigi, pensate a cos'è Londra, pensate a cos'è San Francisco, cos'è New York. Noi abbiamo invece delle strutture piccolissime, cioè la capitale nostra è già una piccola città in confronto alle grandi città mondiali. Allora, l'idea qual è? Quella di accorpare funzioni, poi vediamo quali, no? Perché è ovvio che poi c'è un percorso che non può essere fatto in 15 giorni, è ovviamente. Però l'obiettivo è quello di realizzare dei sistemi territoriali forti, competitivi, coesi, capaci di essere attrattivi, ma rispetto a che cosa? Rispetto a investimenti di capitali, investimenti culturali, investimenti anche turistici e così via. Sestere ci azzecca con Torino, perché nei grandi sistemi mondiali le competenze sono diverse, cioè non c'è solo la conurbazione. Quindi ci sono le grandi università, i grandi sistemi economici, i grandi musei. Se pensate a qualsiasi città che ho citato ha questi elementi. Noi abbiamo questi elementi, perché Torino ha questi elementi, ma oggi sono frazionati. Allora, la palazzina di caccia è a Nichelino, per esempio, e il Palazzo Reale è a Torino. Sestere ha tra i più grandi comprensori sciistici che ci sono nelle Alpi, quindi nel mondo, e così via. Cioè, creare un sistema sinergico è una cosa molto importante. Dopodiché invece noi abbiamo affrontato, secondo me, in modo sbagliato, questo. Perché è chiaro che se io alzo la bandiera del ti vogliono cancellare il comune e io ho 315 sindaci che pensano di perdere la loro bandiera, come si dice, insomma, il tacchino difficilmente va nel forno da solo, no? Tu pensi che sia solo il sindaco che ha paura? Secondo me il cittadino vuole un ambiente che sia competitivo, attrattivo, con servizi efficienti. Questo chiede il cittadino. Non chiede né le 500 municipalizzate che ci sono oggi in ogni provincia, non chiede né le mille poltrone che ci sono, e così via. Cioè il cittadino chiede efficienza, modernità, ma soprattutto lavoro. Queste cose si fanno meglio se ci sono sistemi territoriali attrattivi a livello europeo e internazionale. Questo è l'obiettivo. Allora, se si capisce questo, si capisce anche questo. Se no dice, perdo la poltrona, è una cosa che non sta. Senti, sindaco, ci sono le male lingue in giro. Le male lingue ci sono sempre. 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 Allora, queste male lingue dicono una cosa, che a Milano, Bari, Napoli e Venezia sono città governate dal centro-sinistra con province governate dal centro-destra. Di fatto, di fatto, si consegna al centro-sinistra in quei quattro centri anche la provincia. Questo è più che male lingue, mi sembra miopia. Cioè nel senso che Torino è governato dal centro-sinistra perché ha vinto dal centro-sinistra. Bari, storicamente, non è stata governata dal centro-sinistra. Adesso è governata dal centro-sinistra, ma mi pare che no, non sia una città. E così via. Gli elettori votano i sindaci ritenuti più capaci. Giaveno, c'è sempre. Prima Ruffini, prima Napoli, poi c'è la gente brava. Insomma, se il sindaco funziona viene votato, se non si viene votato. Dillo poi, perché se no la povera Ciarutti rimane lì. Vedi che le polveri ci sono state. Voi non sapete, ci sono i fan della Ciarutti che stanno dicono quando è che parlano? No, scusami. E sono anche, ma chiedo scusa a voi, aggiungo solo questo elemento. In termini generali io concordo con gli obiettivi, se definiti così. Però giustamente il sindaco Nichelino richiama grandi capitali, Londra, Berlì. Noi abbiamo la città metropolitana di Reggio Calabria. Lo dico con tutto il rispetto, ma da questo punto di vista credo che questa modalità di riforma, da un punto di vista strategico, qualche elemento lo mette in dubbio. Poi, rispetto a questa scelta di sistemi globali, io che vivo a Grugliasco per dire, vorrei scegliere questo grande sindaco. Cioè, se il sistema è questo, vorrei che tutti questi municipi fossero dentro un sistema integrato come San Francisco, in modo che io che sono di un quartiere di San Francisco a quel punto, come il cittadino di Sestrea, abbia lo stesso diritto democratico di scegliere colui il quale guiderà in qualche modo quel processo, perché altrimenti sceglie chi è eletto a Torino e l'elettore di Torino conta molto di più dell'elettore di Sestrea. San Francisco non è così. Monica Cerutti, ti dico, ma non è che poi con questa cosa andiamo a creare il cittadino di serie A e il cittadino di serie B? Perché, per dire, io vorrei lanciare questa sera la proposta di aggiungere una di città metropolitana, al Fianonatta. Fianonatta, ridente cittadina, del Monferrato, dove ho la casa, non capisco perché debba essere esclusa da anche investimenti europei, perché mi sembra che le città metropolitane potranno avere fondi, giusto? Mi sembra una corretta provocazione. Io volevo fare una considerazione prima più generale. A me sembra che il nostro paese, purtroppo, è ormai, diciamo, 20 anni, 20 anni che attende delle riforme. Nel senso che siamo, la politica non si è dimostrata in grado di riformarsi e da questo punto di vista c'è stata anche questa lontananza continua, c'è stata l'antipolitica. Ci abbiamo persino il sito. Pensa quanti soldi che c'è al Fianonatta. E quindi da questo punto di vista i politici debbono fare i conti con questi ritardi. Quindi su questo io credo che non si possa continuare a stare sempre sulla difensiva. Detto ciò, credo che il governo Renzi stia cercando di recuperare in pochissimo tempo questo ritardo di anni e anni. E forse, insomma, certi aspetti finiscono poi per essere portati avanti un po' frettolosamente. Perché il fatto che si sia voluto assolutamente approvare appunto il progetto del Rio per non andare a elezioni nelle province fa sì poi però che ci siano i problemi che sono stati evidenziati. Il problema grosso è che finora, e vedremo Renzi cosa dimostrerà di essere in grado di fare, nel nostro paese effettivamente non si è mai ragionato su una modifica dell'assetto istituzionale nel suo complesso decidendo bene chi fa che cosa. Perché poi noi abbiamo discusso mercoledì come regione invece del tema Senato e di quella che è la modifica del titolo quinto che è insomma è anche argomento poi collegato se si vuole il consiglio regionale. Però poi alla fine non abbiamo approvato nessun documento perché non abbiamo trovato un documento che fosse effettivamente approvabile all'unanimità. Però anche lì nella discussione complessiva si sta ragionando tanto sul Senato. Però poi su quelle che sono le competenze delle regioni, quali debbano essere centrali, quali regionali, quali concorrenti, in realtà mi sembra che ancora non si sia così. È vero che deve ancora essere fatto, però in realtà si ragiona sul Senato e si ragiona dicendo finora i cittadini hanno fatto dei sacrifici, ora è giusto che li facciano i politici. È giusto che li facciano i politici, però forse anche in altri modi, non semplicemente insomma a tagli così senza capire effettivamente dove si vada. Quindi la mia posizione è sicuramente molto critica rispetto a quello che si sta portando avanti. Però lo ritengo però un fatto molto importante, il fatto che finalmente forse si stia facendo qualcosa. E quindi non è che sto diventando renziana. Non voglio dire niente, Monica. Però credo che i telespettatori in qualche modo sia, nel senso che è perdente per i politici mettersi sul, perché altrimenti viene tutto dipinto in modo sempre molto caricaturale, da una parte sta la conservazione e dall'altra c'è chi vuole modificare qualcosa, vuole fare qualcosa. E da questo punto di vista credo che anche una certa sinistra debba in qualche modo rivedere le proprie posizioni. Noi nel nostro programma, lo voglio dire, c'era in Italia bene comune, ma anche come Sinistra Ecologia e Libertà, avevamo l'abolizione delle province. Quindi non è che... C'è nel programma. C'è, però probabilmente non è questo il modo... Che non vengano abolite. E infatti noi avevamo l'abolizione e non la trasformazione in organismi di secondo livello. Allora, aspetta un attimo, c'è un'altra domanda, però ho visto, mi fate rivedere i messaggi, perché voi me li mandate così, poi sembra che non li leggiamo. Su certe riforme Forza Italia è d'accordo con Renzi, ma contestualmente ai berlusconiani, Rosi, Cassai, se Renzi trova i 7 miliardi di copertura, Forza Italia in questo ha fallito. No, io credo che Forza Italia sia felicissima se Renzi troverà i 7 miliardi e non solo. Io credo che l'opposizione che Forza Italia sta facendo è assolutamente responsabile e da sindaco sarei molto felice che ad esempio Renzi mi rispondesse sulla scuola che io debbo ristrutturare l'ultima nel mio comune e mettere in sicurezza sotto l'aspetto sismico. Ma io faccio tutta una serie di domande ai telespettatori, oltre che a noi stessi. Domande precise, parliamo di Hollywood, di città, eccetera, ma noi siamo in Piemonte, siamo qua, io sono un sindaco, ho i piedi per terra e io devo dare delle risposte ai miei cittadini. Ora io voglio sapere, i fondi per l'Istituto Pascale di Giaveno, 2 milioni di euro e fischia, con un lavoro che deve partire, chi ce li darà? Ho una bretella ferma che mi deve fare la provincia e l'assessore Dacri lo sa da 5 anni, lavori partiti, impresa fallita, intervento per il palazzetto dello sport bloccato, chi seguirà i piani locali giovani, chi farà i piani di zona, chi taglierà l'erba nei bordi strada, chi ci asfalterà le strade, dove, dove andranno a finire questi soldi e chi li gestirà se già oggi la città di Torino non riesce a tappare le proprie buche. Io voglio partire da questo contesto. Poi sui tagli ai costi della politica, benissimo, No, 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 non ho detto quello. Io sto parlando della provincia e dei soldi e delle competenze della provincia. Non mi è chiaro dove vanno a finire. Allora, se si è fatta una riforma ed è una riforma nata male, è un problema, perché passiamo da un problema ad un altro problema. Io vorrei capire dai sindaci, dalle persone sedute qui, chi gestirà questi problemi quando il commissario, quando si dimetterà a Saitta, ma a questi comuni massacrati che cosa verrà dato? Non mi è chiaro, non lo capisco. I cittadini non lo capiscono perché la politica oggi non sa queste cose. Si può comunque partecipare a ricercare fondi europei, anche soltanto riprendo sempre il comune di Sestrier, non manca questo. i sindaci non hanno il timore di perdere il loro campanile, i sindaci vogliono dare dei servizi. Con questa modalità i servizi della provincia non verranno più erogati. Poi abbiamo tutto il tempo di ribattere e approfondire, però due minuti di pubblicità e torna Profondo Rosso. Bentornati a Profondo Rosso, con i nostri ospiti stiamo parlando, in questo momento abbiamo parlato di provincia metropolitana, ma tra poco passeremo anche a parlare di regioni ed Europa. Monica Cerutti, avevamo interrotto il ragionamento e stavamo parlando la popolazione italiana si aspetta le riforme, però c'è riforme e riforme. Per esempio, leggo su Cronaca qui di ieri, giovedì, pagina 12, che questa invece è una cosa dove è incontestabile, dico finalmente, c'è l'accordo fra i gruppi, i rimborsi saranno aboliti, vuol dire che c'è stata la lezione servita. Sì, bisogna dire che la lezione, o comunque anche adesso la complicazione, perché francamente sono stati tagliati giustamente quelli che erano i fondi destinati ai gruppi consigliari e adesso si è introdotta anche lì una burocrazia che è diventata insomma anche particolarmente complicata. Quindi io credo che sia anche un modo più trasparente per affrontare quelle che possono essere appunto le spese vive dei gruppi consigliari, quindi spese legate proprio a quella che può essere la comunicazione piuttosto che semplicemente le spese telefoniche, avendo appunto la possibilità di condividerle con una gestione insomma centralizzata e quindi da questo punto di vista almeno non ci saranno più complicazioni, perché devo dire che io come capogruppo ho una formazione che non è di carattere economico e devo dire che ho capito quando poi sono diciamo diventata capogruppo ma neanche subito che in realtà avrei dovuto avere una laurea in economia e commercio perché effettivamente l'attività politica avrebbe dovuto essere subordinata all'attività contabile. Credo che da questo punto di vista effettivamente non sia quello il mandato di un politico e questa riforma credo che aiuterà ad andare in questa direzione e a far sì che i politici si occupino della politica regionale e non di contabilità dei propri gruppi. Siamo tutti d'accordo sul resto magari un po' meno, sulle altre riforme. E qui arrivo. Dacri, se vuoi precisare ancora qualcosa sul discorso di città metropolitana, però ti aggiungo un pezzettino. L'impressione che ho io poi per Gaida è, va bene, facciamo le riforme, bisogna farle assolutamente e soprattutto dimostrare di essere in grado di farle. Siamo tutti d'accordo. Benissimo. Però mi sembra che la risposta, via le comunità montane, mi stupisco che non abbiano ancora tolto le circoscrizioni a Torino. Eh però, questa è una competenza del Comune. via le province come parte politica, rimangono i nominati, cioè sindaci che nominano degli altri sindaci. Il Senato, da quello che si legge sui giornali, non è che viene eliminato, ma viene sostituito da nominati. Ma cavolo, la Corte Costituzionale ci ha bocciato la legge elettorale del Parlamento dicendo che non ci sono le preferenze. Beh, non è una risposta al contrario questa. Guarda, io ne dico una e tu credo che dicendo la tua impressione dici quella che secondo me è un sentire abbastanza comune. Io, una cosa mi sconvolge su questo, che noi innanzitutto stiamo perdendo una cultura democratica del tema della rappresentanza. Noi continuiamo a dire, meno poltrone, cioè togliendo le poltrone abbiamo risolto il problema. A me va benissimo. Ma immaginate che, almeno dal punto di vista economico, dire da domani chiunque si occupi di politica guadagna il 50% di quello che prende oggi come indennità. Di colpo, da un punto di vista dei risparmi, avremmo un risultato straordinario. Partendo dal Presidente della Repubblica, arrivando al Consigliere Comunale. Eppure questo messaggio che è economico, che si raggiungerebbe subito, da un certo punto di vista viene sostituito con il messaggio del dire no, meglio non eleggere. Cioè meglio togliere le elezioni, meglio togliere della rappresentanza. Addirittura si è tolta della rappresentanza in Comuni, ripeto, dove la partecipazione a un Consiglio è un gettone da 30 euro, e da questo punto di vista, secondo me, si toglie una cultura che è un po' democratica. E quindi il fatto di lasciare i partiti, perché togliere l'elezione dei cittadini vuol dire che i partiti si organizzano secondo modalità interne per fare in modo che le elezioni di secondo grado vengano determinate al loro interno. A me questa paura della democrazia spaventa perché è vero che dobbiamo ridurre i comuni, dobbiamo ridurre e tagliare, però la Germania o la Francia, che su questi temi non consentono ai propri legislatori di intervenire, lo stesso Sarkozy che ci provò, fu sconfitto dai suoi stessi membri di partito, perché in altrove il tema democratico è un tema su cui si pone attenzione. La mia paura è che questa modalità e quello che dicevi tu, togliamo questo, togliamo quello, non abbiamo un disegno complessivo e ne parliamo in termini di risparmio. E ripeto, con quella po' di esperienza che ho visto da un assessorato al bilancio, si potesse dire, se davvero vogliamo risparmiare, che da domani chiunque si occupa di politica riduce il 50%, ottiene un risultato straordinario, non fa i caos istituzionali. Probabilmente bisognerebbe, su questo do ragione a Monica Cerutti, quando si propone un programma di governo ai cittadini bisognerebbe dire qual è l'assetto al quale si va. E ne dico una. Le regioni a statuto speciale, sono regioni che sono nate all'indomani della guerra. Da questo punto di vista quei temi non si affronteranno mai se il dibattito è lo slogan tolgo l'Unione dei Comuni, tolgo questo, tolgo quello. E di fondo ci si prende l'applauso per quello che abbiamo tolto, ma dal punto di vista dei servizi e dell'equilibrio abbiamo creato un caos che dal mio punto di vista può darci l'applauso ma quando poi portiamo i bambini a scuola non sappiamo di chi è la manutenzione. Quello mi spaventa di più del dire... Le manutenzioni fatte dai comuni adesso io non voglio... cioè non sono peggiori di quelle della provincia. No, ma non so se... Le migliori sono quelle manutenute da noi. Cioè, io la vedo anzi... Ma non sto dicendo quale è il migliore. No, ma scusate, però... Però attenzione, va bene, ma perché le province... Sì, ma perché hanno avuto quelle funzioni. Allora, che ci sia... Non volevo difendere le province. No, no, ma ho capito. No, no, è chiaro. No, no, ma è chiaro. Tu ragionamento è chiarissimo. Però io, ripeto, non condivido... Io non ho firmato, per esempio, l'appello che molti sindaci hanno fatto all'epoca per la questione dell'area metropolitana. Perché secondo me non aveva gli elementi anche interessanti e condivisibili, no? Che diceva Dacca mi pareva più una battaglia politica generale che non una battaglia di sostanze. Ora, il disegno complessivo non è vero che non c'è. No, no, noi come PD abbiamo un chiaro disegno. Primo, iniziare con questo, con, diciamo, la questione delle province che è un piccolo sassolino nel panorama, no? Però io, rivolgendo i miei rispettatori, dico quando mai in Italia fai una riforma qualsiasi e non ci sia il comitato del no? Se voi ci riflette, se qualsiasi cosa si faccia in questo paese c'è sempre un comitato del no. Fai una strada c'è il comitato del no. Fai un ponte, cerchi di proteggere Venezia, togli le province del comitato del no. Riduci gli stipendi dei manager pubblici e del comitato del no. Forse anche perché non si investe tanto sulla partecipazione. Sì, d'accordo, però lo dicevi tu. Sì, ma lo dicevi tu prima. Noi non possiamo ormai perdere tempo. Ne abbiamo perso troppo. Ora, primo tema, questione della provincia. Secondo tema, titolo quinto, come dicevi tu giustamente, ridisegnare le competenze regionali su alcuni, almeno questo è quello che il partito dice, il nostro partito è il PD, poi dopo è chiaro che il Parlamento farà esempi classici. Il turismo, tu hai in alcune mostre internazionali di turismo diverse regioni che pubblicizzano la stessa cosa. Quando un lago è a cavallo di due regioni, la logica vorrebbe che se vado a Tokyo, non porto i due stand di due regioni, ma porto il lago, porto il brand Italia, porto una cosa attrattiva al discorso che facevo prima. Invece qua tutto il piccolo campanile, allora le regioni sull'energia, sul turismo, sulle grandi reti, queste competenze devono ritornare allo Stato, secondo noi, perché in questo modo qua si fa un processo più complessivo e più, come dicevo prima, competitivo rispetto a quello che succede oggi. Le regioni hanno creato, e chiudo, 21 burocrazie, 22, 23, 25, 30, perché così? Ogni regione è un ministero, ogni regione è passata dall'essere un soggetto di indirizzo a essere un soggetto gestore. Questo è il tema. Però passiamo dal problema al problema, perché da quello che il sindaco Catizzone sta dicendo si parla del problema anche delle regioni e le regioni sono 21. Torniamo al problema delle città metropolitane, andiamo alle comunità montane che sono state abolite e che avranno un commissario e vorrei vedere che cosa succede, le riforme sono auspicabili. Non c'è un no alle riforme, ci deve essere una riforma ragionevole che non nasce zoppa. Ma che cosa ne facciamo delle unioni dei comuni? Parliamo di abolire i piccoli comuni, basta far funzionare, no, ma basta far funzionare le unioni dei comuni. I comuni già hanno in mente che debbono accorpare le loro funzioni. Quindi io da sindaco sono stufa di sentire grandi voli pindarici. Vorrei che si facesse qualcosa di concreto, vorrei che le riforme fatte funzionassero. C'è quella dell'unione dei comuni? Bene, per favore, cerchiamo di fare funzionare questa unioni dei comuni e di dare dei messaggi positivi ai nostri concittadini, perché altrimenti ci leggiamo il messaggio che c'è stato prima, dove ci dicono che se non siamo credibili la gente non ci vota più. Allora facciamo funzionare queste cose che sono piccole, ma erogano dei servizi e portano dei risparmi ai comuni, perché se io unisco l'anagrafe, se unisco i lavori pubblici, se faccio delle funzioni, presento il bando in regione e ottengo dei finanziamenti. Questo è veramente l'ABC della politica. Il resto, le mostre, tutto il resto, mio Dio, sono così distanti da noi, verranno dopo, ma verranno soltanto quando noi avremo imparato a fare queste cose bene. Allora, c'era quel messaggio, non era una domanda, quindi penso non abbiano letto, però un po', sindaco, un'altra, un'altra, chi è? L'Hinna, dell'Università di Roma, dice che i debiti fuori bilancio sono più numerosi nell'amministrazione pubblica e nei privati. Non ci sono, non esistono i debiti fuori bilancio. Il comune è uno che deve chiudere il bilancio in pareggio. Sì. Il comune non può, a differenza delle regioni, di fare debiti sulla parte di corregione. Noi dobbiamo chiudere il bilancio in pareggio, quindi noi da sempre, noi siamo due sindaci di due schieramenti diversi, però mi pare, noi chiudiamo sempre in avanzo, con l'avanzo. I comuni chiudono i bilanci con l'avanzo. Però il problema è che questi soldi non lo possono utilizzare. Cioè noi abbiamo le buche nelle strade, perché non puoi sconare. non possiamo spendere i soldi che i nostri cittadini hanno pagato. Bellissimo. Questa è una roba che... E vi do un dato, vi do un dato, esempio, il mio comune, io come te ho finito le due legislature. Nella prima legislatura noi avevamo una capacità di spesa di circa 11 milioni di euro all'anno, quindi 15 milioni di fischia. Noi abbiamo speso nella prima legislatura 58 milioni. Nella seconda legislatura noi abbiamo speso in 5 anni 11 milioni. Noi abbiamo perso 4 anni. Cioè come se per 4 anni il comune non avesse fatto nulla. Abbiamo le buche grandi così e i cittadini se la prendono con chi? Non con il governo Monti, con il sindaco. È giusto. Se la prendono con noi. Ma noi abbiamo i soldi, abbiamo un bilancio sano. Però Inna e l'Università di Roma ha ragione su un motivo, perché dice che la sanità, molte regioni, magari Piemonte non so, però molte regioni nella decreto sblocca pagamenti hanno dimostrato che tante spese non erano coperte da impegni sui bilanci regionali. Quindi quei debiti fuori bilancio di cui parla Inna sono debiti che in qualche modo una parte della pubblica amministrazione, soprattutto la spesa sanitaria, ha fatto in alcuni comuni quello che è capitato a Roma, il famoso Salvaroma, è determinato dal fatto che hanno speso risorse che erano previste in copertura da tasse che non hanno mai incassato. E quegli elementi sono elementi che poi generano, probabilmente era quello a cui faceva riferimento. Monica Cerutti, adesso abbiamo fatto un po' di accenni anche alla regione. Allora tu sei consigliera regionale, capogruppo di SEL in regione, ti ricandidi? Penso di sì. Penso di sì. Sei con sticchieri di luna finché non è la candidatura. Vabbè, questa è bella, sì. Non si sa mai. È vero che si presentano il 25 aprile, 24, per me. Sì, 25, 25 e 26 aprile. 25 e 26 aprile. Sapremo quali sono tutti i candidati, diciamo che molto probabilmente sarai candidato. ovviamente SEL appoggia Chiamparino, quindi avete fatto anche il passo indietro, perché a un certo punto avevamo letto che volevate le primarie. Basta le primarie, quindi voi siete stati più veloci del centro-destra. Sì, diciamo che il centro-destra mi sembra ancora la ricerca del candidato. No, noi sentiamo la russa. È perfetto. Ecco, che cosa porteresti? Se doveste governare, cosa porteresti? Perché adesso hai fatto una bella esperienza di quattro anni. Cosa porteresti? Qual è la tua prima proposta da magari assessore? Che lo sa? Dipende. Non dipende. Quale assessore? Io vorrei portare questo, lo dico più adesso in termini generali, il fatto che la regione diventi un'istituzione normale. Nel senso che... Sembra che sono tutti un po' così, però. Però purtroppo forse i colleghi non possono comprendere a fondo. Ma chi ha vissuto questa legislatura ha vissuto veramente un'esperienza che è stata proprio non normale da ogni punto di vista. E quindi credo che quello che abbiamo sentito noi, che però è molto relativo, sicuramente è l'esperienza dei consiglieri, è però molto più pesante quella che è l'esperienza dei cittadini e delle cittadine che hanno perso fiducia nei confronti dell'istituzione regione. Quindi credo che il primo passo è quello di ridare, è vero che non è solo il Piemonte, abbiamo tutta una serie di altre regioni che sono sotto i riflettori non in positivo, però credo che il primo aspetto sia quello di dare alle regioni, alla regione Piemonte, in particolare di nuovo credibilità, autorevolezza e quindi essere effettivamente un interlocutore, un'interlocutrice dei piemontesi e che in qualche modo sia appunto di riferimento. Quindi da questo punto di vista credo che, è chiaro che questo aspetto può essere realizzato con tante azioni, cioè non esiste un'unica azione, però penso che questo sia l'aspetto fondamentale che il nuovo presidente, la nuova presidente, però penso al nuovo perché non mi sembra, a meno che non ci siano candidati donne nel centro-destra, credo che questo sia l'aspetto centrale. Poi, che cosa, da cosa partire? Io penso che alcune azioni da mettere subito in atto siano, allora, una che in parte si è iniziata, so che non è magari una, insomma, un'azione magari, diciamo, considerata, ma centrale, però credo che sia centrale sul fronte sanitario, sia quello dell'informatizzazione unica che è stata messa in campo adesso come indirizzo, però deve essere realizzata. Ma faccio un esempio banale, però questo lo voglio dire perché il fatto di avere tanti sistemi informativi nelle diverse aziende sanitarie, oltre ad essere sicuramente una diseconomia, può determinare anche quello che è un cattivo funzionamento del servizio sanitario. Mi voglio ricordare il caso della donna che ha partorito, che da Domodossola ha partorito ad Alessandria, io credo che se ci fosse stato un unico sistema informativo sanitario, quindi quando il marito della signora ha chiamato al 118 e al 118 veniva aperto la base dati e si vedeva parto complicato, questa signora non veniva dirottata a Domodossola, ma si diceva subito che andava, che il suo, diciamo, doveva sicuramente andare subito a Novara e a Novara avrebbero trovato il posto perché se una si recava lì lo trovavano, invece la signora è andata a Domodossola, ha perso tempo, si è cercato il luogo dove mandarla, allora a quel punto lì è stata dirottata ad Alessandria e purtroppo uno dei due gemellini non ce l'ha fatta. Credo che questo sia, sarà anche per la mia competenza professionale, però sarebbe uno degli aspetti che vorrei seguire in modo, diciamo, efficace subito da mettere in campo e quindi sicuramente vuol dire anche chiaramente un'attenzione all'aspetto lavorativo, ma credo che la Regione proprio per aumentare efficienza e anche diminuire i costi debba sicuramente lavorare perché anche uno dei titoli sempre portati avanti è l'agenda digitale a livello nazionale, ma sul fronte insomma regionale su questo bisogna effettivamente metterci mano perché vuol dire sia economia sia migliorare i servizi nei confronti dei cittadini. Allora, Daniela Ruffino, tutti i candidi in regione per Forza Italia, quindi magari vi dovrete guardare da destra a sinistra per cinque anni, ecco tu con l'esperienza di un comune medio, diciamo di medie dimensioni, c'è un po' questa sensazione di antipolitica adesso per cui il Consiglio regionale, il parlamentare è visto un po' distante, la casta, ecco tu sindaco di un comune medio, come vieni vista e come ho fatto alla Cerutti, che cosa vorresti portare delle tue esperienze in regione? Certo, ma io credo che il sindaco venga visto e non è una frase populista come colui che sta in mezzo alla gente e conosce i problemi, quello che manca alla regione è la conoscenza dei problemi, quindi se io devo fare un sogno, ho detto una grande frase, conoscenza dei problemi, se io devo fare un grande sogno e immagino la regione che vorrei mi vedo questi palazzi aperti, gli amministratori, i consiglieri regionali più presenti sui territori, con un dialogo molto importante con i sindaci e con gli amministratori, con un contatto fortissimo con le realtà, si può fare tranquillamente perché sono rappresentate tutte le province del Piemonte e questo deve essere fatto perché se lo si fa i provvedimenti, le leggi, eccetera, avranno un senso. Quello che succede spesso ai politici e che a me non piace lo chiamo lo scollegamento dalla realtà allora il sindaco non può permettersi questo perché ti bussano ti vengono a suonare il campanello arrivano comunque i nostri concittadini in comune ci chiedono delle cose e noi dobbiamo rispondere invece questa parte di gestione e di ente non vede questa concretezza allora se si fa e mi ha colpito tantissimo questo provvedimento antisismico che è stato fatto dalla regione per il posizionamento delle paline dello scuolabus che ora prevede una pratica da parte dei comuni che è defatigante non c'è personale ora io credo che debbano essere fatti dei provvedimenti concreti questo l'ha aggiunta non il consiglio regionale lo dico in generale lo dico in generale non parlo di maggioranza o minoranza io spero io spero io spero tantissimo che il nostro candidato presidente picchetto vinca ecco ma dall'altro lato viene c'è la testera della raccolta funghi la mia comunità montana che non ha mai dato il picco di un quattrino al mio comune che è colui che rende di più nella raccolta nella testera della raccolta funghi mette il bollino mette la marca da bollo se ci fosse una testera della raccolta funghi giornaliera incasseremmo di più i nostri concittadini pagherebbero la testera e ci sarebbe una raccolta funghi che probabilmente porterebbe più turismo sui nostri territori ho rappresentato una cosa banale che a mio parere può essere fatta con un provvedimento molto semplice ma darebbe un grande beneficio sui territori benissimo ancora due minuti di pubblicità e poi torna ancora Profondo Rosso bentornati a Profondo Rosso l'ultima parte della trasmissione andiamo un po' alle conclusioni allora sindaco Catizzone in quello che dici vedo già no vedo già una visione più ampia che quella del sindaco perché mi sembra di aver capito che ti candidi alle elezioni europee e lì bisogna averla la visione che cosa se fossi eletto diventassi eurodeputato del partito democratico che cosa porteresti in Europa io riprendo un po' quello che diceva collega di Giaveno perché secondo me quello che è mancato sia a livello nazionale che a livello europeo è proprio una conoscenza dei problemi l'Europa ha attraversato un momento molto difficile il momento però è stato anche determinato da alcune scelte sbagliate europee tutta la politica che ha fatto adesso diciamo la Merkel ma per dire il centrodestra europeo perché poi in Europa governava la maggioranza di tutti i paesi era centrodestra quindi queste politiche di austerità hanno di fatto messo in ginocchio l'economia noi partivamo con gli Stati Uniti con una recessione molto forte gli Stati Uniti guidati da Obama partito democratico hanno fatto una politica diversa una politica espansiva una politica di finanziamenti io prima citavo l'esempio del mio comune che è uno degli 8 mila comuni Michelino ha 50 mila abitanti quindi se moltiplichiamo per mille grossomodo abbiamo l'ordine di grandezza noi abbiamo avuto l'80% in meno degli investimenti quindi il sistema paese ha avuto l'80% in meno degli investimenti già solo sul pubblico quindi queste politiche sono politiche sbagliate perché si è in parte sanato i bilanci in parte sanato i bilanci ma si è creata una disoccupazione inaccettabile per cui riteniamo che il primo obiettivo sia quello di far aumentare l'occupazione europea con investimenti anche pubblici perché se manca l'investimento pubblico guardate che le questioni non funzionano l'economia non gira la stessa Chrysler se vedete è stata salvata da forti investimenti pubblici che poi sono ritornati però l'investimento pubblico c'è quindi primo tema lotta alla disoccupazione secondo tema occorre avere una politica italiana di utilizzo migliore dei fondi dei fondi pubblici europei perché ormai i comuni i comuni ma le stesse regioni come grande valvola di spogo di finanziamento hanno i fondi pubblici i fondi europei su diversi temi noi dobbiamo ridurre il numero di progetti discorso che si faceva all'inizio ma aumentare la qualità di questi progetti europei cioè noi abbiamo centomila se non ricordo male progetti sui fondi europei a livello nazionale capite che sono tanti rivoli che vanno qual è la politica generale qual è la politica complessiva dove si vuole arrivare allora politica quindi di spese dei fondi europei ma strutturata lotta alla disoccupazione e maggior legame ultima cosa che dico è questa si manda sempre in Europa gente a fine carriera tutti i partiti perché i politici italiani non so perché ritengono l'Europa come un parcheggio per poi ritornare a Roma la grande politica è romana quindi si manda sempre gente che non crede all'Europa eccetera questo danneggia il sistema paese questo danneggia il sistema paese allora conviene forse investire ognuno per il proprio partito ovviamente ma in progetti in persone che credono nell'Europa ma soprattutto che vadano lì a lottare per difendere gli interessi italiani perché in Europa che cosa fa il Parlamento europeo? Fa questo perché se cambiano la normativa europea la direttiva europea sul parmigiano dico un esempio e non tutelano il marchio o sul barolo o sui vini doc eccetera ma è chiaro che questo è un danno enorme per noi cioè noi abbiamo una forte economia anche nella nostra regione che sta attraversando un periodo di crisi ma ci auguriamo che questo periodo di crisi non duri tutta la vita ma dobbiamo anche in quelle assise difendere e proporre vi ricordate tutta la polemica del cioccolato noi abbiamo un cioccolato di qualità ma se questo cioccolato di qualità non è tutelato con qualche marchio il cioccolato diciamo di battaglia è paragonabile a quello di insomma torinese che è buono non faccio nomi per non fare pubblicità però è ovvio che tecnologia bisogna ecco credere e far sì che l'Europa anche lì la dico con uno slogan alla Renzi cambi verso che l'Europa come fino ad oggi ci piace poco passiamo dall'Europa dei banchieri che pensano soltanto a risanare i bilanci all'Europa delle famiglie delle imprese dei territori dei sindaci che insomma tutti i giorni devono dare risposte ai cittadini ecco anche l'Europa e chiudo deve dare risposte ai cittadini quindi noi dobbiamo fare delle scelte non perché ce lo chiede l'Europa ma perché sono utili per la nostra gente per le nostre famiglie per le nostre imprese questo è il tema quindi lottiamo per un'Europa diversa che possa però essere utile a noi perché e chiudo davvero l'Italia non dimentichiamo che è il secondo contribuente netto dell'Unione Europea cioè noi dopo la Germania siamo quelli che paghiamo di più e riceviamo di meno che mi sembrava paghiamo di più e riceviamo di meno quindi iniziamo a pagare di più ma a prendere di più così almeno paghiamo ma prendiamo perché non dimentichiamo che una delle fonti importanti di finanziamento europeo è proprio l'IVA da noi si paga abbastanza quindi prendiamocela anche un po' indietro Monica Cerutti ti faccio questa domanda perché la fai a me poi ti spiego cronaca qui ieri pagina 6 uno dei tanti articoli che sono usciti assalto anarchico al PD tu dici per quello ti dico perché la fai a me adesso ti spiego con lancio di fumogeni non c'era Monica Cerutti invia a Colautti vetrate spaccate scritte no tab allora evidentemente il PD qualche piccolo problemino adesso ce l'ha mi sembra che è stato molto chiaro sul fatto sul sitab sul sitab però voi forse non siete così ancora come la pensate perché a me sembra di aver capito che Sergio ha detto se viene con noi deve dire sì alla tab o mi sbaglio no? non è proprio detto così nel senso che la questione è quella che sicuramente sono note le opinioni di Sergio Chiamparino così come sono anche note le opinioni posso dire della maggioranza del PD perché anche nel PD ci sono anche voci insomma che hanno altre opinioni Sinistra Ecologia e Libertà ritiene il progetto Torino-Lione perché poi ci tengo a sottolinearlo e ne abbiamo anche parlato con lo stesso Sergio Chiamparino non è che Sinistra Ecologia e Libertà è contraria all'alta velocità è contraria a questo progetto che è questo appunto della Torino-Lione così come è stato configurato per tanti motivi legati alla sostenibilità ambientale ai costi al fatto che in questo momento probabilmente ci sono altre priorità detto questo è consentita nel senso non è un elemento insomma così come nel Partito Democratico così all'interno della coalizione ci sono posizioni diverse vorrei far notare che lo stesso Sergio Chiamparino ha scelto come coordinatore del programma che si va a costituire per la coalizione Bruno Manghi che è un altro che è insomma un diciamo un ex sindacalista nonché adesso insomma così si può dire insomma intellettuale definiamolo in questo modo che ha dichiarato di non essere favorevole al progetto Torino-Lione quindi da questo punto di vista un conto è arrivare alle manifestazioni di insomma non condivisione violente che sono sempre state condannate la sinistra ecologia libertà e che certamente non hanno niente a che fare con quella che è una manifestazione di un non diciamo di una non condivisione dopodiché aggiungo anche che la regione Piemonte per quello che abbiamo adesso davanti nei prossimi atti non ha da decidere sulla Torino-Lione quindi ciascuno potrà mantenere le proprie opinioni ma non è che la regione Piemonte deciderà di mandare avanti o di fermare la Torino-Lione e insomma in altri ambiti eventuali scelte che possano andare a ridefinire quello che è stato definito ancora in questo mandato noi abbiamo solo discusso una legge che era quella sulle opere di compensazione in generale poi era calato in particolare anche sulla questione Torino-Lione ed è l'unico momento in cui abbiamo discusso in consiglio regionale neanche in modo diretto ripeto del tema Torino-Lione dopodiché abbiamo parlato di ordini del giorno che sappiamo bene che insomma gli ordini del giorno un po' a tutti i livelli valgono quello che valgono nel senso che sono confronti interessati però interessanti ma che non avevano una diretta conseguenza sull'attività dell'amministrazione regionale quindi da questo punto di vista sono serena altre questioni sicuramente invece le vogliamo affrontare con il candidato Sergio Chiamparino perché crediamo che ci sia la necessità di portare avanti quelli che sono dei nostri contributi che sicuramente caratterizzino forse un po' più a sinistra quello che può essere anche il profilo del candidato presidente in un minuto perché poi devono ancora parlare loro solo questo ma prima ne parlavamo un picchetto c'è questa con la coalizione centrodestra un po' di problemi a mettersi insieme magari lo faranno però ci sono le mai lingue che dicono che NCD e le mai lingue che NCD voglia correre da soli per poi fare la ruota di scorta a Chiamparino allora si presenta una coalizione di centrosinistra non è che vi fanno fuori come a Roma poi allora non è che ma è lingue vorrei solo precisare non è che ci hanno fatto fuori siamo noi che abbiamo deciso di non stare dentro è un po' diverso devo dire non avete trovato un accordo e loro sono andati con la NCD no non era più il programma con cui ci si è presentati non era più il programma di Italia Bene Comune a questo punto noi abbiamo deciso di stare all'opposizione credo che e questo credo è un appello ai telespettatori che credono in un governo di centrosinistra è quello di avere una sinistra ecologia libertà forte in modo che non ci sia il bisogno di guardare verso nessun altro orizzonte e quindi da questo punto di vista penso che sia importante mantenere ancorare Chiamparino a sinistra con sinistra ecologia liberale si può votare anche il PD però vota anche il PD e però attualmente il PD non è garante rispetto alle medie intese non larghe intese allora abbiamo fatto questa bellissima trasmissione qualche tempo fa con le province dove anche io che seguo tutti i giorni la politica però mi sono stupito di alcune cose non sapevo le vostre competenze quello che fate avevamo da tutte le province quindi di destra di sinistra ecco la tua esperienza penso sia stata bellissima ecco quali sono le soddisfazioni i risultati che hai portato a casa in questi anni guarda la cosa più importante credo che è anche il tema di quanto la regione sarà in grado di recepire anche dalle buone amministrazioni che in giro sul territorio si sono fatte io ne cito una penso a quello che è capitato con Zingaretti nel Lazio che da presidente della provincia di Roma è diventato presidente della regione Lazio io credo che quanto abbiamo fatto in questi anni due sono gli elementi sul bilancio a cui tengo particolarmente perché credo possano essere utili il primo abbiamo ridotto le nostre sedi istituzionali e siamo riusciti a venderne una importante quella di Corso Lanza perché è di Torino e attraverso quella vendita abbiamo abbattuto il debito pregresso abbiamo alleggerito il nostro bilancio e questo fa sì che quel principio che spesso si dice bisogna ridurre il debito vendendo il patrimonio inutile ecco noi l'abbiamo fatto non l'abbiamo solo detto e quello è un elemento importante oltre questo siamo riusciti negli anni a ridurre la nostra struttura il personale che da 2200 persone oggi è 1700 anche il numero dei dirigenti si è ridotto significativamente da 75 a 49 questa modalità di ridurre i costi fissi sia quello che si paga le banche per il debito che quelli della spesa del personale ecco sono risorse che in qualche modo possono essere messe sui servizi questa è la cosa più forte dal punto di vista anche di quanto accadrà la prossima regione troppo spesso sento dire come dire che i soldi mancano questo è vero però a volte bisogna avere il coraggio di aggredire quelle che sono spese fisse perché solo attraverso quelle si potranno ridare servizi necessari penso ad esempio a una generazione che è rimasta senza borse di studio penso a una generazione che in qualche modo ha la necessità di non pensare al proprio futuro solo all'estero ma di trovare opportunità nel nostro territorio perché altrimenti perderemo il meglio che abbiamo a casa Daniela Rufino vuoi una domanda o mi fai un commento il commento lo devo fare ah ecco che ti vedevo carica ma intanto condivido quello che ha detto Marco Dacri sulle operazioni che sono state fatte sulla provincia ieri sera c'è stato un incontro a Chieri e è stato ho fatto anche un inciso su questo aspetto di Chiamparino sulla tavola la mia città insomma lambisce proprio questa situazione della Valsusa io invece penso che il futuro della regione debba molto essere molto incentrato sulla tav ma facendo cosa perché detto così non significa niente lo spiego lo spiego ritengo che sia un po' mettere la testa sotto la sabbia eludere un progetto che comunque ha tenuto impegnata una nazione e non solo per tantissimi anni ritengo e mi sono presa un appunto in questo che il candidato del PD per dire sì alla tav deve ancora aggiungere condizioni e cautele sperando così di recuperare consensi e voti da quella parte di sinistra ferocemente contraria ma se sinistra ecologia e libertà rispetta il ruolo che ha deve pensare che occorre togliere il taffico su gomma e portarlo assolutamente su rotaia questo deve essere un principio per ridurre l'inquinamento non ci va bene questo progetto ma quale progetto ma va mai bene e come si farà comunque a compensare un pensiero così complicato perché io sono convinta che i banchi della regione debbano essere coinvolti assolutamente da questo tema Mercedes Bresso è stata duramente punita sul suo modo ondivago di affrontare la tav prima ha detto sì poi ha avuto paura e ha detto no e ha perso ora io ritengo che chi fa politica su tematiche così grandi e così importanti debba dire il proprio pensiero tenete conto che c'è una valle dove ci sarà una voragine di voti contro la politica che ha sempre faticato a prendere delle posizioni per fortuna il mio partito in questo è sempre stato molto chiaro e molto detto Netto ha detto sì sia un'opera sia un'opera sia un'opera che porta oltre a ridurre l'inquinamento servizi eccetera porta anche occupazioni quindi io spero che i banchi della regione si trovino a discutere su questo e non soltanto su ordini del giorno che spesso sono aria fritta ahimè e questo non è un bene per la politica e credo che però siano discussioni assolutamente inutili perché attualmente non vi trovano d'accordo perché l'opera si sta facendo indipendentemente io sono abituata in regione a discutere di leggi e non semplicemente di ideologie le paline degli scuola no ma quello non l'ho proprio discusso ma perché era in giunta non è in consiglio regionale e non è mai stato le donne le donne Daniele e Monica Daniele Ruffino Monica Cerutti vengo a sentire in consiglio perché lo voglio proprio vedere vedi le quote rosa due e due in consiglio regionale da te fino a Strasburgo non so se iniziamo volentieri va bene allora adesso diamo in chiusura io però 30 secondi questa volta li prendo per me per dire non abbiamo commentato un sms di un cittadino esasperato che diceva se questa politica non ci piace basta 40% non voterà ecco io devo solo dire cercando di essere un po' sopra le parti non serve a niente non votare è anche un po' offensivo nei confronti dei nostri padri e nonni che hanno sacrificato la vita per darci l'unico sistema possibile che è la democrazia se non vi piacciono i politici che ci sono adesso partecipate candidatevi che è l'unica cosa buona andate a parlare nei partiti e portate le vostre ragioni non votare non serve assolutamente a niente buonanotte bravo e siamo tanti siamo tantissimi siamo le dieci non non ai Grazie a tutti. Grazie a tutti.